non so se sia il caso che ci ha fatto lanciare i dadi o siano i dadi che hanno fatto al caso nostro o meglio al caos nostro non so se sia l'alea che sceglie i numeri per noi o siano i numeri che hanno dentro di loro già un'alea prevista tu non fai al caso mio ma neanche al mio caos